vediamo il box around the world utilizziamo un sostegno su cui appoggiare i piedi potete utilizzare un box come facciamo qui nel video o se siete a casa o al parchetto e non avete questo tipo di attrezzatura ma avete magari una sedia o un qualcosa di più limitante vediamo come andare a trovare delle accortezze per riuscire a fare ed eseguire esercizioni la forma migliore possibile ci piazziamo con i piedi sul box le mani a terra e andiamo ad attivare il corsetto addominale ok cerchiamo di mettere la schiena più verticale possibile le braccia in spinta le spalle attive la testa guarda il box da questa posizione iniziamo a camminare lateralmente verso sinistra continuando a mantenere attive le spalle immaginiamo di aver fatto una rotazione completa quindi di aver girato intorno al box e adesso facciamo il movimento dalla parte opposta ok se non avete a disposizione un oggetto che vi permette di ruotare intorno potete fare semplicemente un side to side come ha fatto adesso alessandro grazie a tutti